L'arte torna a liberare la notte sabato 20 giugno per la quinta edizione di Art Night Venezia, manifestazione ideata e coordinata dall'Università Ca' Foscari in collaborazione con il Comune ed è entrata nel calendario ufficiale delle notti dell'arte europea. Anche quest'anno l'intera città si animerà a fracali e campielli con l'apertura serale straordinaria di musei, fondazioni, gallerie, librerie, istituzioni e associazioni culturali perché sono 87 le sedi aperte per l'occasione, centinaia gli appuntamenti in programma. Da Palazzo Grassi a Punta della Dogana, ai musei civici, da Casa dei Tre Occi alla collezione Peggy Guggenheim, solo per citare alcune delle istituzioni aperte nella notte Art Night. Un'occasione per scoprire la città e assistere alle tante iniziative e attività offerte dalla notte. Per quest'anno l'evento centrale a Ca' Foscari è dedicato al tema dell'acqua, è legato anche al tema dell'expo sviluppato a Venezia, del viaggio per mare. Teresa Mannino, nota attrice siciliana, leggerà con un commento prima ironico il dodicesimo canto dell'Odissea in un'ambientazione fatta da giovani artisti, gli impresari, artisti che avevano partecipato l'anno scorso agli studi della Bevilacqua alla Masa, che si dedicano alla costruzione di macchine teatrali e insieme a due ensemble musicali, uno è Elettro Foscari, l'altro è il laptop a razza ensemble del professor Zavagna del Conservatorio di Venezia, ci sarà appunto questa performance multimediale, perché la parola, la musica, l'arte, con un'ambientazione spettacolare, il cortile di Ca' Foscari sarà un grande vascello che ci porterà nel mare appunto dell'Odissea. Anche le isole avranno la loro notte dell'arte con iniziative a Torcello, San Giorgio Maggiore e San Servolo. Il programma completo è su ArtNight.it